La storia della termodinamica può essere paragonata ad una staffetta, perché numerosi sono stati i personaggi che a vari livelli hanno contribuito al suo sviluppo e completamento. La storia della termodinamica può essere paragonata ad una staffetta, perché numerosi sono stati messe. Tanto più diversi sono i tipi di cose che correla e quanto più esteso è il campo della sua applicabilità. Di qui la profonda impressione che ho ricevuto dalla termodinamica classica. È la sola teoria fisica di contenuto universale di cui sono convinto che nell'ambito di applicabilità dei suoi concetti di base non verrà mai superata. Lo studio della termodinamica si è sviluppato tra 1700 e 1850, in concomitanza con la rivoluzione industriale. Bisogna considerare che il calore conosciuto dall'uomo fin dalle origini e direttamente collegato alla vita ha sempre suscitato domande e riflessioni. Ma trovare le risposte non è stato così semplice, tant'è che la termodinamica costituisce un caso molto particolare nel campo della fisica, perché la riflessione è stata preceduta dalla tecnologia, ovvero la teoria è stata formulata solo dopo le applicazioni pratiche. Proprio per questo motivo molti dei personaggi che abbiamo visto in questa carrellata non erano veri e propri fisici, ma ingegneri che hanno lavorato praticamente sui concetti della termodinamica, che poi è stata elaborata e studiata dai fisici. Per entrare nello specifico di questa staffetta della termodinamica, cominceremo dalla definizione di calore. Cominciamo sempre con le parole di Einstein. Un eschimese e un aborigeno delle terre equatoriali che si incontrassero a Milano in un giorno di primavera manifesterebbero opinioni assai diverse nel giudicare se il clima è caldo o freddo. Gli antichi greci avevano definito il calore come ciò che produce la sensazione di caldo, ma la realtà è che l'eschimese e l'aborigeno, non potrebbero mai trovarsi d'accordo su cosa sia realmente il calore, proprio a causa delle loro diverse abitudini. La seconda definizione di calore afferma che quando il calore fluisce all'interno del nostro corpo produce una sensazione di caldo, quando ne fuoriesce produce una sensazione di freddo. Questa definizione non è compatibile con il fenomeno della svestizione paradossale, ovvero se una persona cade nell'acqua fredda, il corpo reagisce immediatamente e trasferisce tutto il calore dalle zone periferiche agli organi vitali, facendo diventare la pelle più fredda dell'acqua. Per questo motivo l'uomo percepisce l'acqua come calda e il caldo è talmente insopportabile che è portato a svestirsi, accelerando la propria fine. Possiamo provare con la terza definizione di calore, ovvero il calore è ciò che modifica l'altezza della colonna di un termometro. Siamo nel 1500 con Galileo Galilei, che inventò, proprio con lo scopo di misurare il calore, il termoscopio. È rudimentale, ma per l'epoca costituisce uno strumento avveniristico. Nel catalogo multimediale dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze leggiamo Il termoscopio è costituito da una caraffa di vetro della grandezza di un uovo con un lungo collo. Questa caraffa viene riscaldata con le mani e immersa parzialmente in posizione rovesciata in un recipiente pieno di acqua. Quando veniva sottratto alla caraffa il calore delle mani, si osservava che l'acqua saliva nel collo. L'esperienza evidenziava le variazioni della densità dell'aria prodotte dalle variazioni di temperatura. Bisognerà però aspettare il 1714 con Gabriel Daniel Fahrenheit per avere una prima scala di temperatura. Il fisico e ingegnere tedesco scelse una scala di misurazione molto particolare. Il grado 0 corrispondeva alla temperatura di congelamento di una particolare miscela di acqua e sale e per questo motivo la temperatura di congelamento dell'acqua distillata, ovvero gli 0 gradi Celsius, è di 32 gradi Fahrenheit e la temperatura di ebollizione corrisponde a 212 gradi Fahrenheit, con una differenza di 180 gradi Fahrenheit fra le due temperature estreme. Questa scala è tuttora in uso esclusivamente negli Stati Uniti e in poche altre parti del mondo. Nel 1742 Anders Celsius, un astronomo danese, ideò una scala più semplice. Lo 0 corrispondeva al punto di ebollizione dell'acqua, il 100 al punto di congelamento. Successivamente modificò ulteriormente la scala, scambiando tra di loro la temperatura di ebollizione e quella di congelamento, probabilmente su suggerimento del biologo Carlo Linneo. In ogni caso, la realizzazione di una scala più scientifica e indipendente da qualsiasi tipo di sostanza richiese circa 100 anni. Solo nel 1866 il fisico britannico Thomas Clifford Albut inventò il termometro come lo conosciamo oggi. Fu proprio in quell'epoca che misurando la temperatura corporea si potè notare che si manteneva pressoché costante, a tutte le latitudini e in qualunque stagione. Questo fatto generò perplessità e ulteriori domande riguardo la natura del calore.